Per risolvere la questione acquifera del Gran Sasso, Strada dei Parchi ha proposto la realizzazione, tra le diverse opzioni in campo, con la preferenza anche del MIT, di una nuova galleria dedicata alle opere acquedottistiche. E quanto emerge dal verbale relativo alla riunione svolta si presso la Regione Abruzzo il 21 dicembre scorso del tavolo istituzionale per l'emergenza Gran Sasso. Un'ipotesi che ha subito trovato la contrarietà della Regione Abruzzo, ma anche quella delle associazioni ambientaliste che da tempo chiedono una soluzione al problema. E' un'idea che non solo per noi ambientalisti è assurda, credo che lo sia per i tecnici, credo che lo sia per i cittadini, credo che lo sia per gli enti tutti, a cominciare dalla Regione. Questa proposta, Strada dei Parchi, l'aveva già messa sul tavolo nell'ultimo tavolo tecnico in Regione Estivo, intorno a fine giugno e inizi di luglio. Allora, cosa succede? Che in quel momento l'intero tavolo tecnico già aveva bocciato l'idea. Non solo, tecnici presenti avevano già espresso le loro enormi perplessità perché intervenire su una montagna come questa, così delicata, con un acquifero così compromesso con un'ulteriore galleria, era davvero improponibile. Per cui, perché oggi siamo qui ancora a parlare di questo e non a parlare di una vera progettazione, non a parlare di una messa in sicurezza? Credo che a Strada dei Parchi interessi premere verso questa proposta scellerata perché lì è conveniente, come sempre, Strada dei Parchi guarda le sue convenienze, non certo a quelle dei cittadini abruzzesi, non certo a quello della Regione Abruzzo. Su questo l'osservatore è chiaro, l'ipotesi di una nuova galleria è non solo impossibile, ma creerebbe una sollevazione di veramente di un milione e trecentomila cittadini e non soltanto dei settecentomila cittadini che bevono quest'acqua. Cosa si deve fare? Lo abbiamo individuato il percorso. È necessario che i sindaci si occupino di questo problema in maniera forte, è necessario fare pressioni nei confronti del governo, ci vuole una legge speciale per il Gran Sasso con finanziamenti specifici e un progetto serio di messa in sicurezza. Dall'altra parte, Strada dei Parchi e i laboratori di fisica nucleare devono capire che si trovano in un ambiente delicatissimo, sottoposto a una serie di normative, i laboratori devono togliere le sostanze, non spostare la liberazione di queste sostanze tossiche stoccate all'interno del Gran Sasso al 2020, ma veramente toglierle nel giro di 2019 come era così stabilito da cronoprogramma.